L'ha nascosto. Perché? Tutti hanno segreti, capitano. Perché non mi ha informato? Puoi considerarti più che informato adesso, Joe. Oh, è di grande aiuto, generale. Grazie. Ma è in ritardo di un giorno e con un missile in meno. Erano tre. Ne abbiamo trovati due. Allora vedi di metterti al lavoro in fretta e sistemare tutto. E che sistema lei, eh? Io non ne ho bisogno. Sono un patriota che protegge il suo paese. Che si protegge il culo. Io faccio ciò che deve essere fatto e non mi farò seppellire sotto un mucchio di scartoffie. E so anche cosa è meglio per la causa. Lei è impazzito, generale. La causa viene prima di tutto, John. Bisogna sporcarsi le mani ogni tanto. Nascondiamo la polvere sotto il tappeto. È così che funziona. Sì. Anche a costo di sacrificare i nostri. Devi smetterla di ragionare in questo modo. E concentrarti sul vero nemico. E lei deve richiamare gli Shadow. Graves. Sì. È un cane che non molla l'osso. Ti consiglio vivamente di non provare a strapparglielo. È l'ultima occasione per ripensarci. E poi? Poi, dopo di noi, verrò per lei. Ora lì! Vacheros! Pongan'attenzione! Ascoltate. Riprenderemo la vostra base. Il nostro prigioniero. E uccideremo Graves. Quando? Ora. Combatteremo contro i nostri. Adesso non siamo la 141 nello Spacheros. Siamo il team. Team Ghost. Ti rivediamo, Simon. Se ci state, prendetene una. Altrimenti, no. Le mie truppe conoscono la struttura delle fuerzas speciales meglio della Shadow. Saremo in vantaggio. Ma ricordate, saranno in massima allerta dopo la nostra evasione. Ci infiltreremo nella base con due team Ghost. Il team 1 sarà formato dal capitano Price, Gaz, me e un pilota. Il team 2 sarà formato da Ghost, Soap, Rudy e los Vacheros. Il team 1 userà il tunnel per arrivare sulla pista e prendere un elicottero. Il mio pilota porterà su il capitano. Price farà saltare l'ingresso principale e farà entrare il team 2 che si aprirà la strada fino a Graves. Sospetto che sarà nel mio QG, difeso dai suoi migliori tiratori. Mentre io e Gaz metteremo al sicuro Valeria, il team Ghost 2 troverà Graves e lo eliminerà. Otro Ghost nel tunnel. Ok, i codici funzionano ancora. Affermativo. Situazione? Un chilometro dal cancello. Ricevuto, fate attenzione. Chiudo. Bel lavoro, Alejandro. Gaz, dietro di lui. Andiamo. Via le sicure, Armanus. Attenzione. Sì. Fermi, ascoltate. Trappole. Vince Uero, Graves, vediamo. Fumogeno lanciato. Che cazzo. È come una ragnatela. Dovremmo disattivarli. Ricevuto. Attenzione. Fatto. Bene. Ce ne saranno altri. Orecchie bene aperte. I laser si muovono e i tubi li bloccano. Possiamo sfruttare la cosa. Bella idea, Corrinello. Odio come ha conciato la mia fase. Appena troviamo Graves, lo mattiamo ste spasio. Vai, Gaz. Fatto. Ce ne saranno altri. Procediamo. I miei usavano questi tunnel. Ci esercitavamo nelle fughe e nelle evasioni. Ricordi le esercitazioni, Vachero? Certo, comandante. Ci hai addestrati bene. È un bravo soldato. Quando sarà tutto finito, verrai al mio ranch. Cucineremo un barbecue. Vado matto per il barbecue. Anche io. Attenzione più avanti. Prova la serpiente. Appunto. Avanziamo. Vedete la porta? A sinistra. Psst. Non siamo soli. Shadow. Quanti? Tre. Prendi quella a destra. Bella mira. C'è da perdersi qua giù. Per fortuna ci sono io. Di qua. Graves ha messo trappole. Ma non ha cambiato i codici. Non si aspettava di vederci. Qui cosa c'è? Ci riporta il ruolo del fuono. Voti aperti per altre cariche. Sentito? Lancia il fumo, Gus. Partito. Fatto, Capitano. Va avanti. Abbassati. E passa. Contatto. Sanno che siamo qui. Resumiamo di sì. Ma magari non ha avuto tempo per fare rapporto. Una volta su troveremo dei velivoli sulla pista. Il mio pilota ti farà decollare, Capitano. Ok. Neutralizziamo le trampole e muoviamoci. Fa la tua magia, Sergente. avanti, Sergente. Fatto. Andiamo. Dietro di me. Avanti e poi a destra. Non sparate. Siamo al centro della base. Prenderemo un elicottero e ti faremo decollare, Capitano. Gus, tu vieni con me. Dietro di te. Ti seguo. Tu è al velivolo. Uccidiamoli. Shadow intorno all'elicottero. Fuoco. Emico a terra! Bravo sei. L'elicottero è tutto tuo. Portalo su e tieniti in contatto. Sì, signore. Alejandro, il tuo pilota è bravo? È il migliore. Auguri, Capitano. Gus, andiamo dentro. Seguimi. Qual è il codice? 627. Speriamo funzioni ancora. Bingo. Ora lei, con me... Tutti il gofo. Ricevuto. Prendiamolo. A tutti i cost. Ho decollato e sono in sorboro. Ricevuto, bravo sei. Due in avvicinamento al cancello. Attacca pure quando il bersaglio è marcato. Pensiamo che Graves si sia barricato nel quartier generale. Entriamo e ci dividiamo. Poi il supporto scombra la strada. Con gli Shadow in fuga troviamo Graves e lo uccidiamo. Comprendes? Claro e forte. A tutti i cost. In attesa per l'irruzione. Soap. Prendi il puntatore e marche bersagli per Price sull'elicottero. Recivuto. Pronto. Barriera di sicurezza a sinistra. Numerosi Shadow di guardia. Ecco il nostro bersaglio. Ammorbidiamolo prima dell'assalto. Richiedo attacco. Bersaglio segnalato. Bersaglio confermato. Attacchiamo. Per fatto. Bravo sei. Bene. Raggiungete il cucchia e trovate Graves. Alejandro approfitta del caos e trova Valeria. Oh me. Andiamo. Andiamo. Richiarmo le punizioni. Se Graves è nel quartier generale, dobbiamo trovarlo. Continuati ad avanzare. Soap. Supporto aereo in attesa. Richiedo un attacco. Bersaglio marcato. Bersaglio acquisito. Fuoco. Armi progetto. Attendiamo il tuo segnale. Sì. Muoviti sotto. Dobbiamo trovare Graves. Fuoco. Fuoco. Fai parte tutto il quartier generale. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. 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 Sì, sì. 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 Sì.